musica 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 bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi finalmente finalmente per la felicità di molti di voi oggi ragazzi parleremo un pochettino della stagione 5 o meglio parleremo di quello che succederà sul finale della stagione numero 4 e quindi per la season 5 vedremo anche ragazzi un paio di clip video che sono veramente io devo applaudire di prepotenza ai miei data miner personali grazie per trovare queste meravigliose info che possiamo divulgare a tutti voi ragazzi in questo canale grazie a tutto lo squadrone di xuder allora ragazzi la domanda veramente cool del momento più hot è ovviamente ma questo missile che cacchio fa nel senso abbiamo visto che è cambiato il missile con l'update abbiamo visto tutte le immagini sul missile abbiamo capito che sto missile porca miseria fa parte di qualche piano cattivo perché lo utilizzerà forse lo spacca tutto anche se in realtà l'abbiamo visto che smanacciava delle altre persone comunque c'è da dire che questo missile qualcosa farà abbiamo anche visto ragazzi che ci sarà la possibilità di attivarlo il missile e secondo me ovviamente anche dal countdown della televisione quella che c'è su switch nulla lascia presagire che non possa essere semplicemente una nuova modalità che arriverà nel finire della season 4 e che ci darà la possibilità di utilizzare questo missile voglio un attimo farvi vedere per rinfrescarvi la memoria e quindi potervi parlare di quello che è veramente interessante il trailer ve lo ricordate ragazzi questo? guardate questo questo ragazzi era il vecchio tra il trailer di arrivo della season 4 c'è una vicenda spaziale questo sta guardando il film tutto distrutto non è mai stato il stesso preparati all'impatto preparati all'impatto preparati all'impatto ci sta lì questa ragazzi era la season la season numero 4 come avete visto ragazzi all'inizio si vedeva questa navicella spaziale vi ricordate tutto il casino del meteorite che c'era è venuto fuori il mondo il meteorite non è un meteorite ma è una navicella spaziale si muove non si muove poi ha impattato ha distrutto ha devastato ha fatto un casino ragazzi sembrerebbe che la teoria dei camioncini sia quella vera per la season 5 che potrebbe riguardare gli alieni ragazzi io qua lo dico io qua lo dico ragazzi perché c'è da dire che spacca tutto sta preparando tutte le pietre salterine che ci sono in giro per la mappa per cercare di lanciare questo missile verso casa e ragazzi noi la casa di spacca tutto in realtà sappiamo qual è o perlomeno ci viene suggerito dal video che voglio farvi vedere tra pochi istanti ragazzi questo è stato estrapolato con forza come quando i strappoli le erbacce dal giardino dai miei dataminer ragazzi guardate che cosa è stato trovato nei file di gioco di fortnite dal giardino dal giardino ragazzi quello è marte ragazzi questa è marte sembrerebbe che qualcosa sia relativo a marte magari lo spacca tutto è un marziano magari c'è qualcosa di più finiamo di vederlo non ci fa vedere altro in realtà l'immagine si ferma con il pianeta marte ragazzi il pianeta rosso noi non sappiamo in realtà questa immagine questa clip quando ci verrà mostrata nei nostri nei nostri giochi nei nostri file di gioco pubblici c'è da dire che però qualcosa sta per accadere il missile potrebbe essere lanciato potrebbero arrivare dei marziani oppure potrebbero non lo so potrebbe succedere un casino perché magari lo spacca tutto come avete visto nelle televisioni sta mandando dei segnali direttamente al suo paese quello che sappiamo raga è che sicuramente lo spazio avrà ancora un ruolo fondamentale nell'inizio della season numero 5 e nella fine della season numero 4 escluderei i dinosauri escluderei tutte le altre ipotesi io comincerei a concentrarmi seriamente su quello che c'è là in alto ovviamente ragazzi sotto questo video voglio i vostri commenti ditemi cosa ne pensate intanto di questa clip e che cosa ne pensate voi della season 5 quale sarà il tema della season 5 che cosa ci dovremmo aspettare boh fatemelo sapere sotto qua io spero che il video vi sia piaciuto un bel pollicione in su mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao